L'esibizione di fronte a 40.000 persone allo Juventus Stadium è una chitarra autografata da cantanti, attori e campioni dello sport. Questi i premi per Niccolò Cataldo e Gennaro Castaldo, i vincitori della terza edizione di Un Cuore Rap, il concorso del Consiglio regionale del Piemonte per i ragazzi delle scuole medie e superiori, che con un brano inedito e un video, devono promuovere uno stile di vita sano e attivo. Esibizione e premiazione prima del calcio d'inizio della partita del cuore del 27 maggio, l'evento benefico dove i campioni per la ricerca hanno sfidato la Nazionale Cantanti per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro. Volevo raccontare un po' l'idea che trasmette la partita del cuore, dicendo che le persone dovrebbero donare in occasioni anche diverse, non solo in queste occasioni qua. L'idea è partita un po' per gioco, mi ha spinto un po' il gioco, un po' la voglia di creare, di sperimentare con la metrica, di giocare un po' con le parole, con le rime. Un gemellaggio, quello tra un cuore rap e partita del cuore, per sensibilizzare su temi importanti come salute e benessere, utilizzando come strumenti la musica e lo sport, ciò che i giovani amano di più. Ho cercato di esprimere tutto me stesso in questa canzone, cercando di medesimarmi nei corpi di coloro che in questo momento, purtroppo, appunto, non sono presenti oggi allo stadio. Spero di aver strappato un sorriso a coloro che sono in ospedale in questo momento. Cosa si prova a esibirsi qui allo stadio? Ma soprattutto una grande emozione perché io non sono mai stato in nessuno stadio e andare la prima volta allo stadio e cantarci dentro per me è una grandissima soddisfazione personale. La partecipazione al concorso è stata un'occasione importante per i giovani in gara, che hanno potuto cimentarsi su temi delicati e personali, ma è stata anche l'occasione per far valutare i propri lavori da una giuria di esperti. Che possono così sviluppare tutti i loro doti compozitive e creative attraverso la musica e affinare il loro senso artistico. E' importante che nelle scuole si avvicini alla musica anche con stimoli di questo tipo. Tra l'altro il materiale proposto è stato sicuramente valido, la scelta è stata piuttosto difficile, quindi auspico che la cosa non solo prosegua, ma anzi aumenti proprio il bacino di adesione da parte delle scuole sparse per la regione. Un consiglio speciale per Nicolò e Gennaro è poi arrivato dalla madrina della serata, Cristina Chiabotto. Io quello che posso dire è di non farsi abbagliare dalle apparenze. Lo so che è un ambiente che può deviare ogni tanto, ma ciò che conta è poi la base che porti dentro.